C'era una bellissima storia su Cesare che nessuno aveva mai raccontato. È più geniale, sicuramente più geniale di Alessandro Magno ed è più colto di Napoleone. O lo amavano, e i suoi soldati lo amavano ed erano disposti a morire per lui sempre, di eroi tra i nemici dei Romani, tra i ribelli dei Romani. Quindi non si finirà mai di raccontare la storia dell'antica Roma, perché ci offre mille anni di eroi.